Oggi c'è un evento, c'è la presentazione di un manoscritto molto antico. Sì, è un manoscritto di Ottavio Martini di cui io davvero mi sono affascinato, coinvolto e innamorato perché è un manoscritto che a me è stato presentato da una autorevole operatrice culturale fiorentina, Ruth Cardenas e stasera lo presenteremo insieme a lei e a Cosimo Cecuti perché si tratta di una sorta di diario in terzine dantesche dell'esperienza sul Carzo nella Prima Guerra Mondiale di questo personaggio ordinario, modesto, umile soldato ma dotato di una straordinaria espressione lirica attraverso la poesia che ha portato a descrivere lo stato d'animo che si offre con tutta la sua purezza ma anche la drammaticità anche la malinconia dei luoghi e dei momenti di uno dei tanti soldati che vissero la Prima Guerra Mondiale una guerra mondiale che comportò 615.000 morti in Italia e una guerra mondiale che non si è combattuta sul nostro territorio come la seconda ma invece sul territorio per molti di questi ragazzi assolutamente impropri, anomali, mai visti ovvero quei territori in cui la lunga e snervante guerra di trincea fra Italia e l'Austria li portava per la prima e purtroppo per molti di loro l'ultima volta e ricostruirlo attraverso non un diario in corsivo italiano ma terzine dantesche è qualcosa di straordinario che rileva come quello che era l'opera del sommo poeta fosse passata fra la gente comune, nella popolarità, nella persona umile e oggi che ricordiamo i 750 anni della nascita di Dante come ricordiamo i 100 anni in questo 2015 dall'inizio della Prima Guerra Mondiale in Italia ecco questa opera è davvero un simbolo che ho voluto ricordare sotto il gonfalone il Pegaso della Regione Toscana ha perenne memoria e gratitudine di questo dono che la creatività e il talento di Martini ci ha offerto